Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vedremo come impostare la vostra split di allenamento. Nei Q&A su Instagram, io come vedete mi baso molto sui Q&A di Instagram, mi arrivano sempre molte domande sulla split. Ora, facciamo una premessa. Il discorso dell'impostazione della split è un discorso veramente molto molto ampio che vede tanti altri concetti che entrano in gioco e soprattutto a partire dal vostro livello, da quelle che sono le vostre necessità, eccetera. Per questa ragione noi abbiamo tutta la sezione su RinoNation dedicata proprio alla split in cui analizziamo tutte le diverse split di allenamento, come impostarle, come decidere, analizziamo proprio ciascuna delle split con degli esempi e delle schede da poter scaricare, quindi degli esempi proprio pratici da poter scaricare. Quindi discorso super super ampio, vi rimando a RinoNation.it per buttarci un occhio, però nel frattempo in questo video cerchiamo di farla spiccia, di cercare di fare un discorso breve, quindi split for dummies, chiamiamola così, come impostare la split for dummies, quindi in maniera molto semplice alcuni ragionamenti che possiamo andare ad applicare. Quindi premessa parliamo di soggetti che sono intermedi avanzati, ok? Quindi lasciamo stare il discorso neofita, intermedio, quindi le varie progressioni di split che ci possono essere nel corso del tempo. Vediamo un po' un soggetto che potrebbe approcciarsi per esempio a Zeus, al nostro programma di allenamento, quindi un soggetto intermedio che inizia ad utilizzare quelle che sono considerate, sono denominate le modified split. Quindi delle split modificate che si basano su quelle che sono le nostre carenze muscolari, perché ricordate sempre, l'ho detto più volte, un fisico equilibrato deriva da un allenamento non equilibrato, ok? Quindi è un discorso che però andrebbe fatto quando abbiamo guadagnato molta massa muscolare. Comunque, primo punto, analizzare quelli che sono i vostri distretti carenti. Quindi per esempio nel mio caso braccia e gambe sono i distretti tendenzialmente più carenti, ok? Quindi identifichiamoli subito, proprio i più carenti in generale. E secondo punto, andiamo a scegliere un distretto grande, ok? Oppure due distretti piccoli su cui puntare. Il discorso è, cercate di prenderla molto alla leggera inizialmente, cioè non buttate di mezzo. Ah ok, ho le braccia e le gambe carenti, però pure le spalle sono tendenzialmente carenti, il petto sì, sta bene, però lo voglio ancora più grosso e quindi mettete tutto in un caldorone. No, scegliete un distretto su cui puntare. Quindi nel mio esempio scegliamo le gambe, puntiamo alle gambe, ok? Scelgo un distretto grande, un distretto che ha bisogno di molto molto lavoro e decido che la mia off-season o quantomeno questo meso ciclo andrò a specializzarmi sulle gambe come distretto target. Ora a questo punto impostiamo la nostra frequenza specifica. Che cosa vuol dire questo? È la frequenza in cui alleneremo questo distretto muscolare. Ora, tra parentesi, questo presuppone che sappiamo già con quale volume lo andremo ad allenare, qual è l'intensità di carico, l'intensità percepita, la densità, cioè abbiamo già settato le variabili di allenamento. Di nuovo, per tutti questi concetti vi rimando alla nostra Academy su Renonation, dove facciamo proprio dalla A alla Z, quindi la prendiamo proprio alla lontana e spieghiamo tutto nel dettaglio, ok? Però adesso non ci interessa, non gli diamo come preconcetti acquisiti, però si parte sempre dalle variabili e dopo si lavora sui parametri e la frequenza per l'appunto è un parametro. Quindi una volta che io so come alleno sostanzialmente distretto, io so anche quanto tempo ci mettono le gambe a recuperare. E nel mio caso, all'inizio di un mesociclo, diciamo che le alleno ogni 4 giorni, quindi la mia frequenza specifica nell'allenare le gambe è ogni 4 giorni, cioè le alleno e dopo 4 notti le rialleno. In base a questa frequenza specifica, che io vado ad impostare, ottengo pure il mio microciclo di allenamento, cioè quanto durerà il mio microciclo, che non deve essere necessariamente una settimana, per esempio in questo caso è 8 giorni, perché andrò a utilizzare due rotazioni diverse di gambe, partiamo con due rotazioni per il distretto, quindi una sessione, che è una sessione per esempio quad focus, quindi focalizzata un po' di più sui quadricipiti, una sessione focalizzata un po' di più sui femorali, e il mio microciclo di lavoro, quindi l'arco di tempo in cui poi alla fine di questo arco di tempo si ripete la scheda e vado a cercare di progredire nel tempo, è per l'appunto di 8 giorni. Quindi impostata la frequenza specifica, automaticamente si imposta anche il microciclo di lavoro. Dopo aver impostato la nostra frequenza specifica, l'altro punto che vado ad inserire è un giorno off, un giorno di recupero, dopo aver allenato questo distretto. Quindi io so che il mio, per esempio, il mio terzo giorno alleno le gambe, il giorno dopo sarà un giorno off, il mio, quindi il quarto giorno sarà un giorno off, poi riparto, faccio quinto, sesto, settimo giorno, vado ad allenare le gambe, il mio ottavo giorno è un giorno off. Ok? Quindi questa è l'impostazione, oppure il primo giorno è un giorno di gambe, il secondo giorno è un giorno off, insomma, come la vedete, la vedete. Però, innanzitutto, la cosa che vado a fare è che vado ad inserire un giorno off dopo aver allenato il distretto carente. Questo perché? Perché io voglio che il giorno dopo che ho allenato il distretto carente non vado a impegnare il fisico, l'organismo in un altro allenamento, ma sfrutto una giornata di completo riposo, poi eventualmente si inserisce del cardio, del NEAT, si vede questo, però una giornata di riposo in modo che tutte le energie vengano veicolate per il recupero di questo distretto, quindi per massimizzare il recupero. E verosimilmente, essendo un distretto su cui io voglio progredire, se voglio migliorare tanto, è un distretto anche che vado ad allenare molto intensamente con un volume tendenzialmente più alto degli altri distretti muscolari, quindi saranno degli allenamenti che saranno delle belle botte, quindi è comunque sensato inserire un giorno di recupero subito dopo. Quindi, vedete che sta prendendo forma, ho otto giorni, le gambe ogni quattro giorni le vado ad allenare, quindi scelgo se allenarle il primo giorno piuttosto che il terzo giorno, eccetera, e il giorno dopo è un giorno di recupero. Quindi stiamo inserendo i nostri pezzi del puzzle. Ora, a questo punto, scegliamo la nostra frequenza sistemica, ossia ho impostato i miei giorni off, tra virgolette, obbligatori, cioè dopo il distretto carente. So che nell'arco di otto giorni, che è il mio microciclo, in questo caso, poi voi logicamente potete farlo ogni sei giorni, ogni dodici giorni, insomma, dipende da voi. Nell'arco di questi otto giorni, due giorni riposo, la frequenza sistemica che cosa vuol dire? Quanti giorni poi mi allenerò? Cioè, quante slot adesso a questo punto apro per inserire degli altri allenamenti e quante slot chiudo? Ed è un discorso molto importante perché è un discorso che normalmente si aggiusta un po' andando avanti, cioè sperimento se ho bisogno in più giorni di recupero, li inserisco, eccetera. Però è un discorso importante che nel momento in cui mi vado a conoscere, so già, cioè certe persone dicono, soprattutto avanzati, avanzati, ok, io comunque prima di allenare, per esempio in questo caso le gambe, ho bisogno di un altro giorno di recupero, almeno uno. Nell'arco di otto giorni ho bisogno di almeno tre giorni di recupero. Io nel mio caso, nell'arco di otto giorni, voglio partire con soltanto due giorni di recupero, quindi la mia split sarà un tre on, una off. Tre on, una off. Vi sto facendo questo discorso perché è la split che imposterò, che sto utilizzando più o meno adesso, che però imposterò per questa fase di rebound e quindi il mio primo meso ciclo da quando farò l'up calorico dopo la gara. Quindi vi sto portando nel mio process per cui state con me. So che si può sembrare caotico, però almeno vi faccio vedere all'atto pratico esattamente come fare. Quindi nel mio caso, dico nell'arco di otto giorni, due giorni di recupero sono più che sufficienti. Quindi mi alleno tre giorni, recupero, mi alleno tre giorni, recupero. Al terzo giorno, in questi due casi, ho gambe. Quindi uno, due, gambe, recupero, uno, due, gambe, recupero. E vedete che ho quattro slot libere, queste prime due e queste altre due. Che cosa si faccio? La prima cosa è inserire semplicemente gli altri distretti in una monofrequenza. Monofrequenza, logicamente, rispetto non alla settimana, ma rispetto al mio micro ciclo lavoro, cioè di otto giorni. Quindi per esempio, inserisco un distretto per ogni giorno. Quindi faccio il petto, il back, in questo caso ho le gambe, recupero, le spalle, le braccia, gambe recupero. Ok? Quindi il petto, il back, le spalle, le braccia, lo inserite. Quindi in questo caso, per ora la mia split, prevede una monofrequenza nel micro ciclo di tutti i distretti, tranne le gambe che alleno in multifrequenza. E questo può essere sufficiente per persone che sono assolutamente equilibrate. Cioè, una persona che ha un upper, ottimo, non ha carenze nell'upper, è fantastico, e ha un lower molto molto sottosviluppato, cioè c'è una forte discrepanza tra upper lower. Allora, soltanto questo dovrebbe fare, a questo punto è arrivato. Quindi se avete una forte asimmetria, vi limitate essenzialmente a questo. Ora, nel mio caso, queste sproporzioni non sono forti. Nel senso che, vedendo anche la condizione sul palco, le gambe non sono così carenti. A me personalmente piacerebbe averle più grosse, per questioni anche di gusto. I giudici non hanno ritenuto le gambe come distretto troppo carente, per cui in realtà non c'è necessità di spingere troppo. Per cui, posso permettermi di aggiungere qualcosa, e vado ad aggiungere qualcosa dove? Sui distretti che sono tendenzialmente carenti. Cioè, gli altri distretti che sono carenti, in mio caso, le braccia, e meh. Cioè, che non sono proprio carenti, però comunque avrebbero bisogno di più lavoro, in mio caso le spalle. Quindi, il blocco braccia-spalle, anche parlando con Giuseppe, facendo posing, parlando con i giudici, è comunque un elemento che poi quando vado a tirarmi, soprattutto, la gamma mantiene molto volume, invece, braccia-spalle tendono a svuotarsi un po'. Devo ancora vedere la situazione all'Arnold, come sarà, dove raggiungeremo effettivamente la top condition, quindi con refeed e tutto quanto, però questo è quello che per ora è emerso. Per cui, vado ad aggiungere, come ciliegina sulla torta, dei richiami, un po' più di lavoro per questi distretti. Per non lasciarli troppo da parte, sì, mi ruberà un po' di adattamento per le gambe, perché comunque, meno energie di recupero saranno destinate alle gambe, perché parte delle energie verranno indirizzate verso altri distretti, che comunque verranno allenati a questo punto con una maggior frequenza e un maggior volume. Però, si tratta di un bilanciamento, si tratta di scelte da fare, non è una carenza che mi deve portare a un forte disequilibrio, ok? Quindi, più immaginate il vostro fisico è poco equilibrato, più dovete rendere l'allenamento poco equilibrato. Più andate verso l'equilibrio, più l'allenamento andrà verso l'equilibrio. Il concetto, spero che sia chiaro. Quindi, nel mio caso, che cosa faccio? La prima sessione di petto aggiungo le spalle, ok? Un richiamo di spalle, quindi meno volume, quindi c'è un petto-spalle, nella sessione di back aggiungo un filo di braccia, quindi back e braccia, gambe riposo. Un filo vuol dire anche semplicemente uno o due esercizi a fine sessione, di back in questo caso. Nel mio caso il back è molto molto avanti, quindi in realtà lo allenerò con un volume abbastanza basso, quindi c'è un bel po' di spazio per quanto riguarda le braccia. Comunque sì, parto inserendo semplicemente un esercizio o due esercizi e poi eventualmente aggiungo se il recupero me lo concede, anche perché dopo il back c'ho una sessione di gambe, quindi non voglio affaticarmi troppo, devo anche ricordarmi questa cosa, quindi devo stare attento a non andare a avere una sessione troppo pesante prima di allenare il distretto carente, soprattutto se sono le gambe che è un distretto che ha bisogno di tanto lavoro. Quindi, petto con un filo di spalle, back con un filo, back molto leggero di isolamento con un filo di braccia, gambe, quad focus per esempio, recupero, col focus perché preferisco fare il focus femorale lontano dal back, recupero, a questo punto ho la mia sessione di spalle che posso semplicemente lasciare così oppure se voglio lavorare per esempio sui fasci claveari del petto posso aggiungere oppure per esempio posso, sì, sostanzialmente posso lasciarla così in realtà. Credo che inserirò un esercizio di petto, uno soltanto. Perché questo? Perché la prima sessione di petto sostanzialmente faccio solo tre esercizi e uno lo sposto, quindi invece di fare quattro esercizi come sono solito, ne tolgo uno alla prima sessione in modo che c'è un po' più di spazio per le spalle. Però potrei lasciarlo semplicemente così. Queste sono un po' delle finezze che sto andando a percepire anche facendo un po' di lavoro e quindi sono finezze che si va ad inserire poi sperimentando all'atto pratico. nella mia sessione di braccia la lascio così perché non ho intenzione di aggiungere il back quindi mi concentro bene sulle braccia poi di nuovo gambe e riposo. Per cui la mia sessione diventa petto con le spalle back con un filo di braccia quad focus quindi sessione gambe riposo spalle con un esercizio di petto magari all'inizio o alla fine braccia gambe con focus femorali riposo. A questo punto l'addome io normalmente lo faccio tutti i giorni al mattino proprio come pratica e morning routine i polpacci li andrò ad inserire nelle sessioni che sono meno lunghe quindi probabilmente la sessione braccia sicuramente a me non piace inserirli con le gambe le gambe preferisco allenarle da solo però degustibus e poi li vado ad inserire in un'altra sessione probabilmente la prima quella col petto e i deltoidi quindi il petto deltoidi i polpacci back con un filo di braccia gambe riposo deltoidi con un filo di petto braccia colpacci gambe riposo questa è l'impostazione della split una guida pratica molto molto semplice per andarvela a impostare ovviamente questo è il mio esempio basatevi un po' su questi punti che vi ho elencato e andate in base a questo impostare la vostra split ragazzi qualsiasi domanda qua sotto sarò ben lieto di rispondere io di nuovo ve lo ricordo se la vedete un po' complicata se vedete che ho dato per scontato molti preconcetti eccetera c'è la nostra academy su Renownation in cui vado nello specifico su tutto quanto e vi assicuro che là non ci saranno assolutamente dubbi perché sono veramente logorroico e sapete quanto so essere logorroico quindi detto questo è tutto qualsiasi domanda qua sotto sarò ben lieto di rispondere noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti